Sono finiti agli arresti domiciliari dopo un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Caltanissetta. Si tratta di un funzionario del Comune e di un imprenditore arrestati dopo un blitz delle fiamme gialle negli uffici comunali e accusati di corruzione. Perquisizioni sono state seguite anche presso gli uffici della società ed il Tecnica Costruzioni. Le indagini sono il frutto di approfondimenti investigativi effettuati a seguito dell'operazione Perla Nera che nell'aprile del 2016 aveva portato all'esecuzione di 13 misure cautelari nei confronti di funzionari pubblici e imprenditori nisseni per diversi reati contro la pubblica amministrazione. Tra gli arrestati figuravano anche Salvatore Ficarra rappresentante legale della Etil Tecnica Costruzioni e Daniele Silvio Baio funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di San Cataldo. Entrambi indagati in relazione ad un rapporto corruttivo intrattenuto con l'ingegner Giorgio Salamanca già dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Caltanissetta. Al termine di queste nuove indagini il GIP Nisseno ha nuovamente sottoposto a misura cautelare l'imprenditore Ficarra e il funzionario comunale Baio perché ritenuti responsabili di un rapporto di corruttela che avrebbe permesso all'edil tecnica di ottenere diversi appalti pubblici nel Comune di San Cataldo in cambio del pagamento di somme di denaro. In particolare Ficarra pagava in nero mensilmente somme di denaro al Baio in cambio dell'affidamento di lavori pubblici con procedure amministrative semplificate. Nel corso degli anni il funzionario avrebbe percepito una somma pari a poco più di 46 mila euro, somma sequestrata dal GIP, quale prova della corruzione.